La partita tra Torres e Latte Dolce, il derby di Sassari vinto dai rosso-blu di Mariotti per 1-0 grazie al gol di Alessandro Masala all'ora di gioco. Una partita non bellissima dal punto di vista spettacolare, spezzettata con un predominio comunque territoriale della Torres, che si è riconosciuto poi a fine partita anche dall'allenatore dell'Atte Dolce Stefano D'Assi e dal capitano bianco-blu Marco Cabeccia, un 1-0 che conferma la Torres al secondo posto in classifica dietro la Turis che ha vinto anche oggi 3-2 contro la Visartena. A mio fianco Roberto Pina con cui abbiamo raccontato il derby di Sassari. Roberto che partita è stata e secondo te il risultato è giusto? Diciamo che ai punti la Torres ha meritato il risultato sicuramente. Il laterolce ha provato un po' a fare la partita, la classica partita è il laterolce, quella un po' di gestione, portando palla, poi cercando magari qualche occasione, però nella ripresa oggettivamente non c'è quasi mai una riuscita, neanche quando poi Udassi ha provato con dei cambi. La Torres secondo me ha giocato molto bene, è riuscita a fare un buon possesso palla e anche dopo il gol ha cercato il raddoppio, c'è quasi riuscita, il laterolce è salvato con un salvataggio appunto sulla linea di Patacchiola. Detto questo, va detto che per il laterolce e per gli investimenti fatti sicuramente al momento c'è da rivalutare qualcosa perché 10 punti della Turris, come dicevi tu, sono tanti per la Torres, ora bisognerà iniziare a ragionare da seconda squadra del campionato qual è e bisogna iniziare a seguire la Turris. Al termine della partita in sala stampa sono intervenuti oltre ai due allenatori anche i due capitani e proprio Giacomo De Martis che tra l'altro in settimana era stato protagonista della simpatica intervista doppia con Daniele Bianchi è realizzata da noi di 131.com, Giacomo De Martis che ha detto che la Turris comunque deve venire a Sassari con un ghigno quasi come dire, insomma, ce la giocheremo fino alla fine. Ha lanciato già la sfida, diciamo, sicuramente sì. Diciamo che tra tutti forse De Martis è quello che, anche perché è l'uomo più esperto, ci può anche credere, magari dopo la vittoria di oggi anche perché la vittoria di oggi è un segnale fondamentalmente, quando batti una squadra esperta come il Latte Dolce e quando non sei magari esperto come può essere adesso in questo momento la Torres battere il Latte Dolce ti fa capire che te la puoi giocare con tutti anche perché fondamentalmente, come rimarcato anche da Mariotti, la Torre del Greco ha fatto una buona partita l'ha giocata con pochi uomini di esperienza, però ha perso solo 3 a 2. E con noi dal Vanissana possiamo anche chiudere, vi rimando chiaramente a tutti i contenuti di 131.com sia sul nostro sito, sia sull'app per utenti Android, chi ancora non l'avesse fatto, mi raccomando scaricatela dal Play Store e soprattutto anche sui social ci saranno tanti contenuti dalla pancia del Vanissana, quindi le parole di Mariotti, Udassi, Cabeccia, De Martis insomma ci sarà tanto di cui discutere ancora di questo derby di Sassari che come dicevamo prima si è concluso per 1 a 0, la vittoria per la Torres di Mariotti gol di Alessandro Masala al sessantesimo, una Torres che continua a essere seconda in classifica e che lancia a suo modo, un po' così con questo modo di vivere alla giornata la sfida per la promozione in Serie C e chissà che insomma davvero la parità di oggi non possa essere un gradino ulteriore salito dalla squadra di Mariotti Da Sassari è tutto, da Francesco Aresu e Roberto Pinna l'augurio di una buona serata e a presto, come sempre, su 131.com